Se vi accomodate proviamo a iniziare l'ultimo dibattito di questa prima giornata di inaugurazione della festa provinciale per il lavoro della CGL, gli ospiti di questo dibattito lo coordinerò io, sono tutti dei ragazzi, sono giovani, a parte Fulvio Fammoni che ti tocca, è d'esperienza ed è colui che sintetizzerà o comunque al quale chiederemo alcune cose, per cui vi invito a salire sul palco, c'è Salvatore Marra che è del sindacato europeo, Federica Pietramala, CGL Calabria, responsabile delle politiche giovanile, Michelo Rezzi, responsabile dell'Unione degli universitari nazionale e il nostro conterraneo, Domenico Giampa, il segretario dei giovani democratici, anche Salvatore è un nostro conterraneo, Fulvio Fammoni, Presidente della Fondazione di Vittorio. Io parto dalla festa per il lavoro, quello che abbiamo provato a realizzare con già la grafica e i luoghi stessi della festa, abbiamo provato a dire una cosa, che dobbiamo mettere al centro dell'agenda politica di questo Paese il lavoro e oggi lo facciamo parlando con delle persone, dei soggetti che di lavoro certo si occupano ma non vivono per età ed anagrafica è perché la condizione del lavoro in questo Paese è una condizione che non permette ai giovani di entrare nel mondo del lavoro normalmente, anzi ai giovani di questo Paese se posso, parlo un po' di esperienza del territorio dal quale provengo, del quale mi occupo come militante della CGL, ma se posso le opportunità per i giovani di questo Paese rispetto ai giovani europei e ai giovani dell'Europa sono molto meno presenti dentro il mondo del lavoro, quando un'azienda ti chiama a lavorare in teoria in questo Paese la prima cosa che devi avere è la macchina, perché se non hai la macchina non ti muovi, soprattutto in Calabria e soprattutto per il sistema di trasporti pubblici che avete avuto modo di provare sulla vostra pelle in Calabria, quando un giovane di questo Paese viene chiesto di dover lavorare spesso quello che gli viene proposto non è mai un contratto, è sempre una forma di lavoro precario e dentro questo Paese i temi sui quali i giovani sono più sensibili non emergono quasi mai, alcuni dibattiti dicono che il Paese, la politica, le istituzioni spesso sono molto più indietro di quello che il Paese reale pensa e di quello che il Paese reale percepisce. Dico queste cose perché noi abbiamo provato a fare una o tre giorni che di queste cose prova ad occuparsi, già stasera dopo che finiremo noi la commedia teatrale che ci sarà subito dopo Ciro Giustiniani che farà un suo monologo di spettacolo, Ciro lo conosco da un po' di tempo, è un compagno della CGL e poi sta facendo queste esperienze commedia in Sud, ma dicevo già dentro la commedia il tema delle donne, il tema del precariato, il tema di come può vivere una donna in questo Paese anche il momento più bello della propria condizione, cioè la maternità, l'attesa di un figlio, lo verificheremo fisicamente e visivamente quello che significa. E dentro queste questioni, i temi della libertà credo siano ancora un pezzo di distanza dal Paese. Noi oggi siamo al 33esimo anniversario della strage di Ustica, noi domani insieme al giudice Amelio che è un nostro conterraneo che è sooccupato della vicenda, ma insieme a Enrico Fierro del Fatto Quotidiano e ad altri ospiti dell'SLC nazionale proveremo a prendere quell'esempio per dire che la stampa in quel caso e la pressione della stampa ha impedito che quel muro di gomma, descritto anche da Marco Risi nel suo film, che quel muro di gomma potesse resistere, anzi ha aperto diversi squarci e siamo arrivati alla verità. Spesso invece assistiamo ad una stampa compiacente, ormai su posizioni differenti che viene guidata dalle grandi economie e dai grandi gruppi editoriali, per cui insomma è un Paese tappato dal punto di vista dei giovani e poi c'è il tema del lavoro e dell'occupazione che è appunto il cuore centrale di questa festa, perché insieme proviamo a rimettere in testa il lavoro, in testa l'agenda politica di questo Paese rispetto al governo con il quale ci confrontiamo e rispetto alle forze politiche con le quali ci confrontiamo dal livello nazionale al livello regionale e territoriale. Noi pensiamo si possa discutere oggi di questi temi e farlo anche un po' controcorrente, domani discuteremo di temi che in questo Paese sono un po' vissuti sull'ideologia, il tema dei diritti umanitari, di chi è diverso, sono temi che in questo Paese si vivono un po' così, tutti ci occupiamo dell'intimità delle persone diverse, di quello che fanno nella loro vita privata e non ci scandalizziamo quando invece gli interessi pubblici e forti e potenti da questo punto di vista vengono dicevano addirittura, la dico così, provocatoriamente la solidarietà del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica dopo due minuti che l'ex Presidente del Consiglio viene condannato per prostituzione, Minerira lo incontra e allora da lì arriva anche un segnale di garanzia da parte delle istituzioni a certi atteggiamenti e dall'altra i gay, chi sta da solo, chi è nelle carceri, quei temi non vivono nell'agenda politica di questo Paese ma vengono vissuti come un problema, io penso che si tratti di una questione culturale che fa tornare indietro il Paese, che continua ad essere un tappo e un freno per questo Paese. Detto questo io inizierei a discutere un po' dei temi che riguardano il mondo dei giovani e del lavoro. Inizio da Domenico che è il neo rappresentante dei giovani democratici a Catanzaro e noi con la politica facciamo i conti ogni giorno, ci discutiamo piuttosto che ci confrontiamo, litighiamo per difendere e rappresentare le nostre visioni, per difendere i nostri lavoratori. Il partito, il movimento politico che Domenico rappresenta è in grave affanno e difficoltà e poi sostiene questo governo sul quale noi siamo abituati a darli sul merito, sui provvedimenti che fanno e sul modo con il quale si confrontano e ascoltano le parti sociali. Tu che impressione hai rispetto al tema dei giovani, da giovane impegnato in politica e c'è ancora spazio per i giovani in politica? Perché sembra che c'è un clima da restaurazione politica, da tappo e da freno, piuttosto che un rilancio delle giovani generazioni della passione dell'impegno civile in politica. Mi ha fatto una domanda così, insomma, facile facile. Per ogni cosa, grazie Giuseppe, complimenti alla CGL per questa bellissima manifestazione, è davvero un grande piacere, un grande onore essere qui. Fare politica per un giovane, io dico sempre che non solo non è facile, ma a volte diventa anche una nota di demerito, quasi uno svantaggio, perché soprattutto la nostra terra è qualcosa di molto arduo, di molto difficile, dove ti scontri con personalità che poco hanno a che fare con la passione politica. Però io penso che chi decide di investire il proprio futuro qui, chi ha studiato qui e chi cerca di lavorare qui, la minima cosa che possa fare è quella di provare ad impegnarsi sul territorio a cambiare le cose. Sul governo Letta, io ti rispondo facilmente, questo governo penso non piace a nessuno, infatti la crisi dei partiti che sta investendo anche i sindacati, che è la crisi della rappresentanza poi. fermati, fermati, fermati. Odi, alzi i clivi... Dammi questo! Alzami il canale! Parla! Larganta! Provence Primo! Primo! determine... Primo! Primo Grazie a tutti. 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 Mi collego rispetto a un decreto fornero che poi nella pratica non è stato così perfettamente pensato, diciamo. L'apprendistato, l'inserimento, la specializzazione del lavoratore sono delle cose che meritano una certa complessità e che non possono essere varate in questo modo. Io penso che ormai i provvedimenti, oltre a rendere il merito, dovrebbero essere voluti neanche rispetto alla concretezza dell'attuazione. Giustanzialmente noi abbiamo bisogno di misure urgenti e io condivido con te quando dici che il mondo va troppo in fretta e noi non riusciamo a seguirlo. Io faccio un'autocritica. Il partito democratico ha avuto una lentezza inspiegabile nel rispondere a quelle che erano le esigenze della società che richiedeva la società in un determinato periodo storico. E ripeto ancora una volta, il risultato elettorale lo conferma. Quindi anche il governo letta, il frutto di un compromesso, frutto di grandi discussioni spesso apporta nelle televisioni, nella concretezza, nell'immediatezza, non stiamo vedendo i risultati che aspettiamo. E se sono delle risposte che bisogna dare soltanto per presa immagine all'Europa, non abbiamo capito cosa vogliamo fare. Non abbiamo capito che abbiamo bisogno di un'Europa diversa, l'Europa dei popoli e non l'Europa dei presidenti del governo, non l'Europa delle conferenze, ma l'Europa che quando si va a parlare di mezzogiorno e di occupazione dei giovani lo si faccia con una impressione a posteriori, non rispetto a un'impressione che si sofferma sui numeri. Per questo io ti dico, e non la faccio lunga assolutamente, che vi sono delle difficoltà a fare politica, però qualcuno la deve fare, in una terra dove è forte la storia delle Camere del Lavoro, della CGL, dove è grande l'impegno degli amministratori locali, dove quello è il partito che si spende in questa regione e nel mezzogiorno. Quella è la classe dirigente di cui ripartire, quindi questo è, prima ogni cosa, un punto fermo. Quello che verrà dopo deve essere sicuramente il frutto e il risultato di questa classe dirigente e di questo motore roboante della società. Rispetto al governo Letta noi aspettiamo, ma diciamo che se non riesce a dare messaggi chiari e quei provvedimenti immediati che non aspettiamo, beh, lì si faccia la legge elettorale e si vada al voto perché questo Paese non può permettersi il lusso ancora di aspettare. Grazie a Domenico, io dico una cosa per passare la parola a Michele per il suo contributo. Spesso abbiamo visto le piazze degli studenti universitari, degli studenti medi nell'anno precedente rispetto ai bisogni e alle politiche di attenzione che quelle piazze rappresentavano, appunto un bisogno di cambiamento forte che quelle piazze esprimevano, che poi nel Paese reale, nella politica non si è tramutato. E spesso rispetto ai giovani, io sarei tra virgolette un giovane della CGL avendo 33 anni, quindi anche un'età in cui il tasso, l'asticella di quando si diventa vecchi o giovani è anche allargata, ma spesso sento delle discussioni che sono di questa natura, la sento spesso parlando con i giovani. Uno è che c'è una generazione che ha fallito e che quindi è tutta colpa di chi è più grande e di chi non si è pegnato. Per cui ho un modo per dire, io non ho speranze rispetto a questo, lascio spazio alla mia indifferenza perché tanto non c'è nulla da fare. L'altra questione è quella della prospettiva del futuro, perché in un Paese che ti dice che devi sempre costare di meno, saper fare sempre meno è bene il tuo mestiere, ma l'importante è che costi di meno, qual è la motivazione che ha un giovane per iscriversi all'università e dire io divento una persona che può servire a essere utile sia alla mia vita sia agli altri nel lavoro che farò. E qual è la percezione degli universitari rispetto a questo? Perché, insomma, ribatto sul tema, ma ho l'impressione che si parta sempre dal lavoro, cioè da quello che uno si aspetta voglia fare da grande, poi quando il tempo di diventare grande poi è relativo, però quell'impressione ce l'ho. Allora sono servite le piazze degli universitari se non sono accompagnate da movimenti che non sono tanto generazionali, perché io credo che la spinta dei giovani serva, quella voglia di cambiamento, quella voglia di cambiamento, quella voglia forte di stare dentro il proprio tempo, serva. Ma quando è che arriva l'adesso? Non la dico per Renzi, ma quando è che può arrivare solo, secondo te, se i giovani stanno in una cerchia e discutono dei loro problemi, o se quella cosa diventa un modo per mettere le sinapsi e dei collegamenti anche con le altre generazioni. Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto una cosa in cui Ludo era presente qui a Catanzaro, abbiamo discusso e provato a dire che le generazioni devono parlare tra di loro, perché i problemi sono analoghi e non sono legati alla proprietà. Tu che ne pensi? Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente per l'invito, Giuseppe è stato uno delle prime persone che ci ha dato una mano a cercare di ricostruire negli ultimi mesi il progetto del sindacato studentesco nella vostra regione e sono contento di ritornarci dopo un mese della lezione del Consiglio nazionale dei studenti, dove Ludo ha fatto prima lista in regioni, quindi sono molto contento di ritornare con un risultato dopo qualche energia spesa nei mesi scorsi. Credo che la domanda di Giuseppe sia strettamente collegata a quello che si diceva prima. Credo che quelle piazze siano servite, assolutamente sì. il movimento studentesco del 2008 e del 2010 con differenze grosse di consapevolezza e di sostanza siano servite, siano servite perché rispetto al governo Berlusconi che c'era in campo e a quella situazione politica gli studenti sono stati l'unico oppositore sociale insieme alla CGL in campo veramente. E credo che abbiano segnato insieme al sindacato manifestazioni assolutamente importanti i cui temi sono dibattiti ancora perlomeno in questo tipo di manifestazioni. Penso alla manifestazione indetta da articolo 31 insieme ai sindacati a difesa della Costituzione, penso al movimento se non ora quando. Sono temi che hanno portato la ribalta, sono state manifestazioni di piazza con una grandissima influenza a parte delle due opposizioni sociali di quel periodo, una grandissima partecipazione di queste opposizioni sociali per portare alla ribalta temi che quel governo schiacciava, soprattutto da un punto di vista valoriale. io credo che quindi quelle piazze siano servite a questo e a creare una consapevolezza e delle attese nella nostra generazione, sia per quello che riguarda gli studenti medi sia per quello che riguarda gli studenti universitari. Dove si interrompe il legame con la politica? quando determinati tipi di esigenze e richieste cadono nel vuoto. Prima si parlava di crisi della rappresentanza, io credo che ci sia una grossa differenza tra la rappresentanza che deve fare un partito politico e quello che deve fare un sindacato. Entrambi sono osmotiche con la società sicuramente, però quella rappresentanza del sindacato parte dai bisogni vicini a una categoria. Il sindacato dei lavoratori al lavoratore, il sindacato studentesco agli studenti. Quindi parte dal bisogno di una categoria. La rappresentanza politica è un po' differente, io non credo che ci sia un problema di rappresentanza nella politica, io credo che il problema della politica attualmente sia la credibilità. La credibilità nel un elettorato che ripone determinate tipi di aspettative e di voglia di cambiamento in un veicolo di cambiamento come deve essere la politica, la politica che disattende nella scelta delle priorità, perché la politica fa questo, mette in numerino le priorità, le priorità che una persona sente e questo credo che si sia visto molto nel voto giovanile. Nelle penultime elezioni, quelle politiche abbiamo visto che un voto giovanile si è andato a schiacciare sul populismo di Grillo, anche perché era più fruibile forse, non era macchiato da una disillusione precedente. Nell'ultimo voto abbiamo visto che i giovani sono andati poco a votare, non so cosa dei due sia peggio sinceramente. So che la politica deve ritornare a essere un contenitore osmotico e cercare di percepire e captare quelle che sono le richieste. Per quello che riguarda gli studenti è richiesto di una generazione, una generazione che è in grossa difficoltà, perché noi vediamo il problema del lavoro e lo vediamo ormai sempre più lontano, perché non riusciamo a vivere il nostro presente. Prima si parlava dell'adesso, l'adesso di uno studente, il presente di uno studente è il futuro del Paese, questa è una cosa che è assolutamente collegata. Cosa succede? Arriva la crisi nel 2008 e più o meno tutti i governi europei tagliano, ma fanno una cosa, investono in politiche sociali per avere risultati di breve termine e in istruzione e ricerca tecnologica per avere risultati di lungo periodo. Il governo Berlusconi in Italia fa esattamente l'opposto, taglia nel sociale, taglia per quello che riguarda istruzione e ricerca e investimento tecnologico. È normale che oltre alla mazzata nel breve periodo, quel Paese che decide di non investire più nei giovani e quindi non credere più nel proprio futuro, non solo prende la mazzata a breve termine, ma farà faticare a rimettersi in piedi e rialzarsi poi. Noi siamo già adesso il Paese europeo con meno laureati, meno di Spagna, meno della Grecia e nonostante questo sono 6 anni che continuano a diminuire l'immatricolazione all'università, perché si sta passando uno strano concetto che è tutto ideologico, per cui bisogna far studiare gli studenti solo se poi hanno una collocazione direttamente nel mercato del lavoro. L'università e la formazione in genere non sono nati solo per essere veramente un ponte di collegamento nel mondo del lavoro, in una situazione bloccata del mondo del lavoro, ma investire sulla formazione dei giovani, sulla loro istruzione serve per creare posti di lavoro, per far progredire il Paese da un punto di vista tecnologico e per creare nuovi posti di lavoro. Questo dovrebbe servire innanzitutto formare una generazione, poi c'è tutto l'aspetto più a difesa della democrazia, cioè che una persona più istruita ha più consapevolezza di sé, è un migliore cittadino e dovrebbe difendere al meglio quello che è il nostro Paese, ma non sono completamente scollegati a questa cosa dall'operazione tutta ideologica che sta portando avanti. Benissimo, la nostra generazione è una generazione bloccata, ha un futuro che non riesce a intravedere e rischia di essere la prima generazione, non tanto la mia, quella che sta avvenendo dopo, completamente disillusa verso il futuro e questa cosa è una cosa completamente pericolosa, veramente in modo devastante può essere pericolosa per il Paese, perché se i giovani non riescono a immaginarsi un Paese migliore nel quale vivono, il Paese rischia di rimanere completamente bloccato, se la politica non riesce ad aprire a questa voglia di cambiamento e a delle parole d'ordine e di priorità che dovrebbero essere quelle per far rialzare il Paese, il Paese sembra veramente bloccato, quindi ogni volta che ho visto in questi anni una piazza piena degli studenti vedevo che comunque se c'era una voglia di cercare di rimettersi in piedi, di cercare di andarsi a riprendere un po' non solo del proprio futuro, ma del proprio presente, lo sto dicendo in una regione che è una delle più penalizzate in assoluto per quello che riguarda la copertura delle borse di studio, l'Italia è l'unico Paese Ocse che ha il fenomeno degli idoni e non beneficiari, noi abbiamo provato a cercare di spiegare ai nostri colleghi europei cosa voglio dire, è idonio ma non beneficiare di borse di studio, ma non si riesce a farglielo capire, che tu sei idonio per parametri di reddito e di merito a ricevere una borsa di studio, ma uno studente su quattro che ha questi tipi di parametri di reddito e di merito dovrebbe ricevere una borsa di studio e non la riceve perché non ci sono sufficientemente i fondi, uno su quattro, per quello che riguarda questa regione, la campagna stiamo parlando di uno su due. In un momento di crisi dove si sta facendo pagare alle famiglie e alle famiglie degli studenti naturalmente, in maniera terrificante il peso della crisi, come si fa a pensare a un futuro se non si può andare ad investire in un studente capace e meritevole ma privo di mezzi per cercare di costruire un futuro migliore per sé, per la sua famiglia, per il proprio popolo, per la propria nazione? È completamente scollegato dalla realtà, per questa cosa noi lo dicevamo al governo Berlusconi che aveva fatto i tagli, l'abbiamo detto al governo Monti che ha fatto la riccheva mercanti, lo continuiamo a dire al governo Letta, ma non perché abbiamo pregiudizi di etichette, perché non è quello il problema, il problema è che tipo di priorità mettere davanti al Paese. Ora, non si vuole fare demagogia, però in questi giorni qua quando si parlava di F35, si può tranquillamente dire, non è demagogia dire che la priorità di spesa di uno Stato che per Costituzione è fondata sul lavoro e ripudia la guerra, dire che la priorità di spesa di uno Stato di questo tipo, che ce l'ha per Costituzione, dire che non sono i cacciobombardieri ma probabilmente è ripartire dal lavoro e dall'istruzione, non sembra demagogia, sembra dire parlare al Paese reale, parlare al Paese reale. Bene, soprattutto in un momento di questo tipo per quello che riguarda la situazione politica e l'agibilità politica con l'ovvia situazione economica che ci limita molto anche la prospettiva e l'orizzonte di cambiamento, è indispensabile, con i pochi soldi che ci sono cercare di risolvere i problemi del Paese. Quindi ogni volta che uno studente scende in piazza, che un lavoratore sciopera, cerca di ricerca, partendo dalla propria situazione, una situazione migliore per tutti. Bene, speriamo che ci siano nuove stagioni per ascoltare quelli che sono i problemi reali del Paese, partendo da categorie deboli come sono gli studenti e come sono i lavoratori che non sono altro che i genitori degli studenti, tanto per intenderci, se non per quello che riguarda gli studenti universitari, ormai uno studente universitario su due, dall'anno prossimo ci sarà il sorpasso tra gli studenti lavoratori e gli studenti a tempo pieno. Un'altra cosa che dà un dato di quella che è la crisi, di quanto morde la crisi, attenzione con il caldo delle immatricolazioni e l'abbandono, questi studenti, quelli che continuano a lavorare e a studiare sono persone che rimangono in università, poi ci sono quelli che escono in università, che sono un dramma e un dramma precedente ancora è l'abbandono scolastico prima dei 16 anni, anche da quel punto di vista uno studente su 4 abbandona la scuola prima dei 16 anni senza rientrare più in nessun percorso formativo, un dramma clamoroso, da qui nascono i giovani che non studiano, non lavorano e ormai hanno perso anche la speranza di cercare un lavoro, che è un dramma assolutamente tutto italiano. Probabilmente qua c'è un filo conduttore generale che è un paese che vuole dalla politica delle priorità più vicine a quelle che sono le priorità di ciascuno di noi e credo che da lì si debba ripartire per cercare di ricostruire questo ponte indispensabile per la saguarda della democrazia tra l'elettorato e tra chi ci rappresenta un punto di vista partitico. Per quello che riguarda la presentanza sociale invece dei sindacati, io credo che il sindacato sia quello degli studenti sia quello dei lavoratori ha benissimo il polso della situazione per quelli che sono i problemi veri del nostro paese. Grazie Michele, io passo all'altra parte perché c'è Federic che dicevo era responsabile delle politiche giovanili della CGL, c'è tutta la campagna giovani non più disposte a tutto che in questo momento la CGL Calabria sta coordinando. Michele ci rappresentava quanto è importante l'università, il mondo dell'università per il progresso sociale di questo paese. Il migliorio universitario di questo paese, poi in Calabria è ancora più complicato e quindi vorremmo che tu ce la descrivessi in qualche modo, diciamo che vive questa condizione, da universitario, investe sul proprio futuro anche economicamente, arriva nel mondo del lavoro e si trova una contropartita che è quella spesso dai tirocini, quando va bene o di un lavoro precario che quell'investimento non glielo renderanno mai, manco in termini economici. Quanto è complicato arrivare al mondo giovanile in Calabria per la CGL e dentro queste partite? Allora, è difficilissimo entrare nel mondo giovanile e questo, diciamo io mi rifaccio anche a quello che ha detto il segretario dei giovani democratici, non è una crisi della rappresentanza la nostra, la crisi della rappresentanza nostra io credo che derivi appunto dal mondo del lavoro, derivi dalla precarietà, derivi da quello che i giovani vivono nei luoghi di lavoro, con i contratti che vivono nei luoghi di lavoro, perché come sappiamo i contratti precari non ti danno quella possibilità in qualche modo di tutelarti, quello che si predilige all'interno di questi contratti è comunque il rapporto personale tante volte con il datore di lavoro ed è questo dalle nostre esperienze, soprattutto nei cost center qui in Calabria, vediamo che nel momento in cui i lavoratori restano all'interno del cost center con i contratti a progetto ci arriviamo molto meno rispetto a quando passano poi con il contratto nazionale, perché se noi guardiamo la condizione dei giovani in Italia o in Calabria ancora di più, io dico una generazione, anzi molto probabilmente due entrano nel mercato del lavoro non sapendo cosa significa avere le ferie, non sapendo cosa significa avere la malattia, la maternità, che cosa significa un'assemblea, uno sciopero, quindi come diceva Fulvio nell'ultimo pezzo della sua intervista, io ho ascoltato solo quella, bisogna far sì che proprio bisogna partire da questo e bisogna all'interno dei contratti nazionali includere i diritti che siano esigibili per tutte le tipologie contrattuali, perché io sono convinta che questo darà delle risposte efficaci ai lavoratori in termini di lavoro, perché potranno garantirsi i propri diritti, darà a noi la possibilità appunto di rappresentare, quindi di avere una democrazia e una rappresentanza nei luoghi di lavoro che sia appunto per tutti i lavoratori. Questo lo so che è difficile, non è una cosa semplice ovviamente, perché siamo arrivati, lo dicevamo prima, mentre discutevamo qui dietro, ad un punto in cui dire aboliamo tutti i contratti a progetto che ci sono in Italia, tutte le collaborazioni, tutte le partite IVA, tutta la serie di contratti che ci sono è impossibile, ovviamente il nostro obiettivo è quello, quindi lo sappiamo che quello è quello che dobbiamo perseguire, perché l'abbiamo detto più volte, per noi quello che vale è il contratto a tempo indeterminato, determinato pure, ma per noi è quello indeterminato, perché poi è il contratto che dà la possibilità ai giovani, ma non solo, di accedere al credito ad esempio, quindi di progettarsi appunto il proprio futuro. Quindi io dico che nel frattempo che avviene questo, dobbiamo in qualche modo attraverso le Camere del Lavoro dare delle risposte, quindi mobilitare i giovani, perché la crisi della rappresentanza deriva da questo purtroppo, perché i giovani li intercettiamo poco nei luoghi di lavoro, però come abbiamo visto anche dai movimenti che nascono, dallo stesso movimento non più disposti a tutto che io seguo da pochissimo, però da quello la mobilitazione, i giovani quando vengono mobilitati si mobilitano, quindi il compito nostro nel territorio è quello che attraverso le Camere del Lavoro, cioè che le Camere del Lavoro devono diventare il punto di riferimento per i giovani, appunto per creare quella piattaforma insieme a loro rivendicativa dei diritti e io credo che farlo insieme ai giovani ha una forza differente, perché diciamo che non è che la Cigella in questi anni è stata a guardare, dico io no, le leggi sono state fatte, passi in avanti ne sono stati fatti, però avvicinarli e anche sperimentarci così come hanno fatto anche in Calabria, così come hanno fatto in altre parti d'Italia, credo che sia importante, ad esempio aprire una Camera del Lavoro come è avvenuta a Firenze la sera, ha portato il risultato, quindi anche noi in qualche modo dobbiamo guardare avanti e andare nei luoghi appunto dove sono i giovani, perché lo diciamo sempre, quando ci sono le iniziative è difficile portarli, vabbè stasera c'è, a parte che ce ne sono, ma c'è la partita e quindi la partita diciamo è andata avanti, questo è anche indicativo, però sappiamo che è difficile poi farceli stare, quindi rispetto alla partita della formazione, io credo che la formazione soprattutto in Calabria, dico io perché poi noi abbiamo vissuto in questi anni a un tipo di formazione che tante volte anziché essere una politica attiva per il lavoro è stata una politica passiva, quindi io credo che questo è un momento importante anche alla luce del decreto occupazione che ovviamente come tutti noi non abbiamo avuto ancora modo di vedere nello specifico, lo dicevamo prima, però nel momento in cui si danno 168 milioni che si destinano al mezzogiorno proprio per la formazione, credo che è alle borse di tirocinio formativo, credo che tutto il sistema della formazione professionale in Calabria debba essere indirizzato appunto ai giovani e deve cogliere le esigenze appunto di innovazione come diceva Michele prima, di una formazione che crei i posti di lavoro, in Calabria noi anche nel piano del lavoro, l'abbiamo detto, gli assi di sviluppo come l'agricoltura, come la forestazione, la cultura, l'archeologia ne abbiamo tanto, dobbiamo far sì che anche la formazione diventi un modo per innovarsi anche all'interno di questa regione, perché a fianco a me c'è uno di quelli che dalla Calabria è andato via e ce ne sono tanti che se ne vanno via e io penso che nel momento in cui i giovani che sono il futuro, devono essere il futuro, vanno via, non c'è più futuro, quindi anche in questa regione credo che le potenzialità ci sono e bisogna sfruttarle al massimo come stiamo facendo. Rispetto al decreto occupazione, come ho detto non ho avuto modo di leggerlo per bene, anche perché quasi nessuno, diceva anche Michele che non l'aveva letto, però io credo che ci sono anche sicuramente delle cose positive, sicuramente si parla dell'apprendistato a breve ed è fondamentale questo all'interno del mondo del lavoro, così come delle regole per i contratti a chiamata che sono diventati una vergogna, credo, penso, sono diventati una vergogna in tutto il settore del commercio. Credo che però ancora deve essere fatto tanto, deve essere fatto tanto perché io credo che se non si fa una riforma del mercato del lavoro reale, se non si cominci veramente con un'inversione di tendenza a capire che se non si ridistribuisce il reddito dalla crisi non si esce. Quindi la riforma del fisco è fondamentale, prendere i soldi da chi ne ha di più per ridistribuirli da chi paga di più, credo che sia fondamentale, non si uscirà dalla crisi, se no più andiamo avanti, più sarà un cane che si morde la coda. Prendiamo da un pezzo e lo sistemiamo da una parte, lo pigliamo dall'altro, lo sistemiamo dall'altra, pagare poi sono sempre i lavoratori, i lavoratori, i dipendenti, i giovani, i pensionati. Quindi credo che questo sia il punto anche di partenza. Sono contenta di questa iniziativa perché è importante che anche noi in Calabria iniziamo a vederci per capire come impostare tutte le politiche giovanili all'interno di questa regione per far sì che come Salvatore non ce ne siano altri. a volte si parte anche per realizzarsi, per conoscere le esperienze, il bello sarebbe tornare al proprio paese con formati di esperienze diverse, invece c'è l'idea che penso che l'Europa non sia un corpo dei popoli, ma che abbia delle differenziazioni sia normative, ne dico una per stemperare un po' il dramma, parliamo di legalizzazione delle droghe domani, se io vado ad Amsterdam in un coffee shop e fumo una canna, arrivo alla frontiera e sono già un delinquente, arrivo in Italia e sono già un delinquente perché non si può fare. E questo dal punto di vista giovanile ho delle opportunità, diciamo che l'Europa ti dà ad essere cittadino europeo, l'ho buttata così per dire un tema leggero, e nel lavoro è la stessa identica cosa, nel senso che i popoli d'Europa stanno bloccando, stanno tentando di bloccare l'immigrazione, è giovanile, è quella dei disperati, tra virgolette, insomma quelli che arrivano e che diventano un problema per gli ultimi, perché sono i nuovi ultimi che arrivano. E allora questa Europa che si sta cercando di costruire dal punto di vista del sindacato europeo e che spesso debba guardare al Mediterraneo, debba guardare come opportunità alle politiche del Mediterraneo, si ha l'impressione che sia molto distante e si ha l'impressione che anche nell'agenda politica dei vari paesi ci entri poco, perché la politica si occupa molto di temi nazionali, spesso spiccioli, ma non dice che alcune cose si possono fare insieme all'Europa. Tu che impressione hai dal tuo punto di vista? Ma intanto grazie, perché per me è molto importante, è sempre molto bello, tra l'altro anche emozionante essere in questo posto che parla della nostra storia, parla delle nostre radici, c'è una necropoli greca che io non conoscevo, ho scoperto sta qua dietro, quindi questo è già un segno di come veramente questo territorio sia straordinario. Ma vedi, Giuseppe, secondo me c'è un errore di fondo nella concezione delle politiche europee, nel senso che tu dicevi che le cose si fanno con l'Europa, io credo che ci sia il bisogno profondo di cambiare un po' strategia e approccio rispetto a questo tema, cioè le politiche europee non devono essere più viste come politica estera, la politica europea è politica interna, è politica che parla direttamente al benessere o al malessere dei cittadini e delle cittadine, delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi è necessario un cambio di approccio che deve fare la politica prima di tutto, perché è necessario che la politica cambi radicalmente approccio rispetto a questo tema, ma che è necessario che faccia anche il sindacato, perché a me ha colpito molto per esempio l'approccio del sindacato tedesco rispetto a una ristrutturazione delle politiche europee rispetto alla crescita. La proposta del sindacato europeo non è una proposta che parla della Germania e poi prende l'Europa come contesto nel quale calare quella proposta, no, è esattamente il contrario, fa una proposta che è europea e che guarda poi alla Germania. Il discorso è molto semplice, parte da un assunto fondamentale, noi siamo paesi che non hanno materie prime in quanto a energia, allora queste materie prime noi le dobbiamo necessariamente importare da fuori, questo è un tema che guarda alla Germania o che guarda l'Europa nel suo complesso. Io credo che questo sia il necessario cambiamento di approccio rispetto alla proposta della politica, ora non posso dilungarmi su questo tema perché ho promesso di essere europeo anche nei tempi e quindi vi voglio dare semplicemente due o tre spunti rispetto al mio lavoro che faccio all'interno della Confederazione europea dei sindacati, di cui ho l'onore e onore di coordinare il gruppo dell'area latina all'interno della segreteria. ci sono due temi che sono molto grossi e molto sentiti dal Portogallo alla Romania come dalla Norvegia a Malta e sono in particolare rispetto alla questione giovanile, un tema che è quello della partecipazione e un tema che è quello della solidarietà. La partecipazione alla vita politica e per quanto ci riguarda, lo diceva il segretario dei giovani democratici, alla vita sindacale delle persone più giovani all'interno del mondo del lavoro e dei posti di lavoro è a mio avviso l'elemento scatenante. Tutti ricordiamo che le Camere del lavoro nella loro iniziale formazione, quando furono fondate le prime Camere del lavoro, erano Camere del lavoro che parlavano al territorio e parlavano alle persone, ai braccianti, ai disoccupati in particolare le leghe dei disoccupati, perché nascevano in un contesto politico e sociale molto particolare che aveva il bisogno di includere quelle persone e farle partecipare alla vita della attiva e passiva del mondo del lavoro. E io riconosco in tutta Europa, anche nei paesi che stanno meglio, un problema legato alla qualità e alla possibilità di partecipazione che si scontra fondamentalmente col problema dell'inattività, ovvero della impossibilità di partecipare democraticamente alla crescita, allo sviluppo di un paese e allo stesso tempo al problema di come si partecipa e questo credo che sia in questo momento storico, per la CGL in particolare, perché la CGL nasce come Confederazione Generale degli Interessi dei Lavoratori, un problema storico fondamentale che ritengo meriti una riflessione. La solidarietà. La solidarietà è l'altro tema che secondo me attraversa in questo momento l'Europa. Nessuno di noi scorderà, penso il 15 novembre dell'anno scorso, quando per la prima volta in una giornata di azione europea, sindacato, quindi lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati, giovani, studenti, Michele Testimone, eravamo insieme in oltre 100 piazze d'Europa per lanciare un messaggio molto chiaro, quella credo che sia stata una giornata molto importante che ha anche dato un segno rispetto all'azione sindacale non solo in Europa, ma anche in molti paesi europei, perché ha detto una cosa fondamentale, ha detto che noi vogliamo un'Europa dei cittadini, vogliamo un'Europa del lavoro, vogliamo un'Europa che formi le giovani generazioni e non vogliamo un'Europa fatta dei palazzi di vetro dove vengono prese decisioni che poi calate dall'alto, dalla troica, ci vengono imposte provocando sciagura sociale nel nostro paese. È una manifestazione che ha detto, senza fare demagogia, è una cosa molto semplice, che se è giusto salvare le banche dando loro centinaia di miliardi perché hanno speculato e speso in derivati tossici, allora è altrettanto giusto e solidare, spendere e investire socialmente nel benessere delle persone che stanno in questo momento peggio. Gli investimenti vanno presi dove stanno e vanno spostati sul benessere delle persone, erano messaggi chiarissimi. La politica ha fatto molta fatica, anche a livello europeo italiano e anche a livello regionale a raccogliere questi messaggi. Penso che però noi, in quanto sindacato, a livello europeo dopo sei anni siamo riusciti per la prima volta a siglare un accordo unitario con le parti datoriali proprio sull'occupazione giovanile dopo una crisi profonda di dialogo sociale a livello europeo. Il primo accordo che arriva è proprio su questo pezzo dell'occupazione giovanile. La CGL, la Cisola, la Convidusta siglano un accordo importantissimo sulla rappresentanza che ora va praticato nei posti di lavoro e va anche probabilmente fra un po', quando poi avremo digerito questa prima fase, aperto anche alla riflessione su come facciamo partecipare quelli che sono i precari, ne parlava prima Fulvio nel dibattito precedente, come queste persone che noi vogliamo includere nella contrattazione inclusiva poi le facciamo partecipare. Ebbene concludendo io voglio dire proprio questo, voglio dire che ci sono sfide importantissime che si aprono in questo momento, c'è molto spazio per il pessimismo purtroppo perché la situazione è veramente drammatica, io penso che però sia il dovere fondamentale di un'organizzazione come la nostra sia quella di fare proposta e sulla proposta misurarsi con i propri interlocutori sfidandoli, sfidandoli a tutti i livelli. L'ultima cosa che dico in chiusura veramente è che c'è un altro momento molto fondamentale per noi che arriverà fra qualche mese, ovvero quello delle elezioni europee, so che si stanno muovendo a tutti i livelli, già le organizzazioni europee hanno costituito delle leghe per i giovani votanti, ai quali noi poi daremo un contributo, ebbene io vi lancio anche una suggestione, rischiamo di avere, visti i sondaggi che girano, il primo Parlamento a maggioranza euroscettica o comunque a maggioranza anti-europeista della storia dell'Europa, credo questo sarebbe un rischio mortale per quello che è il futuro dell'Europa, noi abbiamo bisogno invece di più Europa, abbiamo bisogno di diventare più europeisti noi stessi e abbiamo bisogno di contribuire attraverso cittadinanza attiva e partecipazione nel mondo del lavoro e l'Europa, a partire appunto da chi soffre di più, ovvero da giovani, precari, immigrati e tutte le categorie di cui spesso parliamo e che abbiamo bisogno di rappresentare con sempre più forza, grazie. Grazie a tutti voi, prima di passare la parola a Fulvio Famoni che farà, da qui chiederò di intervenire nel suo ruolo di Presidente della Fondazione di Vittorio, ma da un dirigente della CGL, Fulvio è stato segretario nazionale della CGL e quindi ha potuto vivere la storia del più grande sindacato italiano da protagonista di quelle scelte. Noi abbiamo parlato di giovani, di lavoro, di futuro, che sono temi che intrecciamo sempre nella nostra agenda politica. Io vorrei continuare sulla scia delle provocazioni e fare questa domanda, se appunto c'è una crisi della rappresentanza, se i giovani sono sempre di meno, se riusciamo poco a discutere con i giovani e però lo facciamo con le stesse forme, con gli stessi modi di sempre, se questo è il rischio per il più grande sindacato italiano non è quello di finire nella cerchia dei partiti, di provare a immaginare queste operazioni, se l'unico giovane che ho a disposizione è Giuseppe, prendo Giuseppe perché non ha altra scelta. Quindi passo anche il livello di dirigenza viene meno, il livello di chi deve dirigere, il sindacato viene meno, mentre tu rappresenti la fondazione di Vittorio, c'è una figura importante, storica, lungimirante per il nostro sindacato e per l'Italia, per questo Paese. Vittorio è quello che si è inventato il piano per il lavoro, che noi abbiamo riproposto all'ultimo congresso, che stiamo proponendo alla politica, che immaginava la grande CGL, tutti nel grande sindacato, tutti nella grande CGL, però se il contesto è questo, da dove partiamo e come riusciamo a cambiare per, secondo te, secondo il tuo punto di vista, tornare ad essere vicini alla realtà, a quello che Salvatore prima descriveva, il grande movimento delle Camere del Lavoro, la percezione di parlare davvero al Paese reale. Vabbè Giuseppe, non buttarti così giù, non ti abbiamo scelto soltanto perché c'eri solo tu, qualche qualità in fondo, no, io credo che a questo punto della serata, siccome è il quarto dibattito in 5 ore, si chiama Cotti, un sindacato non dovrebbe fare una cosa così, ma soprattutto per rispetto a chi invece è già la seconda o terza volta che mi ascolta e quindi credo che la cosa migliore che posso fare è essere molto breve dicendo due o tre cose proprio sinteticamente. Parto da una cosa importante che ha detto lui, lui diceva di giovani, ma più in generale vale per un qualsiasi cittadino, un cittadino formato e informato, e aggiungo un cittadino che lavora, è una persona più libera e più autonoma, più in grado di decidere, è evidente che in questo paese si è restì ad andare in questa direzione e ci sono alcuni blocchi abbastanza precisi, uno è quello di carattere formativo e non sarà un caso che noi siamo oggi uno dei paesi d'Europa con la più alta dispersione scolastica, poi ci vuole saccone di turno per recuperarla a basso di un anno l'età del lavoro minorile con l'apprendistato, adesso al di là delle battute. Con il più basso numero di laureati e anche fra non soltanto quelli vecchi, anche fra le nuove generazioni, con un sistema dell'informazione che è un sistema in cui c'è la più forte presenza di monopoli in assoluto in Europa, c'è una fortissima omologazione, ma soprattutto con un meccanismo in cui si utilizza i mezzi proprietari dell'informazione per raccontare una verità di parte come se fosse realtà dei fatti e questo è un problema gravissimo, anche questo è un pezzo dei risultati elettorali che abbiamo visto nel corso di questi ultimi giorni. E con una situazione del lavoro che è una situazione in sé davvero molto grave, adesso in Italia siamo arrivati al paradosso che se cerchi lavoro è meglio che non dichiari che hai una laurea, questo è drammatico, è tristissimo, perché è più facile che forse riesci a trovare un'occupazione se dici che hai un titolo di studio inferiore. Naturalmente qui c'è una distorsione in sé del meccanismo, ma è una particolare cattiveria anche dei nostri datori di lavoro? No, c'è una cosa strutturale, per cui c'è questo blocco, per cui si dice che i giovani italiani non sono preparati ad entrare nel mondo del lavoro, sarà, ma l'anno scorso ne sono emigrati 140 mila e hanno trovato tutti da lavorare in altri paesi europei, quindi forse non è la preparazione dei singoli il problema principale, il problema è che noi abbiamo un modello produttivo che è basato su una competizione a ribasso di costo, di squarsissima qualità di prodotto che in quanto tale non è in grado di assorbire e ha paura di assorbire energie qualificate al proprio interno. Se tu, anche questo l'ho già detto, mi scuso con chi l'ha già sentito, ma se tu hai 2 milioni di aziende per 14 milioni di lavoratori che producono per il mercato comunale o al massimo regionale, che qualità? E allora su che cosa si compete? Si compete sul costo e il costo alla fine qual è quello più facile da aggredire? E' il costo del lavoro, il costo della persona, per cui meno costi naturalmente da questo punto di vista meglio è. Ora, noi abbiamo questo coacervo di questione, se vogliamo ridare un futuro e dire che questo è un paese che dà una prospettiva anche per i giovani, poi con questa storia dei giovani in tanti si sciacquano la bocca in maniera veramente adesso. Ma voi ve lo ricordate? Il governo Monti e la ministra Fornero lo facciamo per i giovani? Qualcuno me lo va a spiegare cosa hanno fatto per i giovani, perché la stessa riforma delle pensioni è una riforma che massacra soprattutto i giovani in prospettiva del loro futuro, ma la propaganda ha fatto passare un messaggio che aveva esattamente questo tipo di caratteristica. Allora, dobbiamo fare delle cose a livello di governo? Se questa è la situazione, vedete, ho detto prima battuta, non do un giudizio negativo sull'ultimo intervento del governo sulla questione del lavoro dei giovani, perché mi aspettavo di peggio per il tipo di discussione che c'era, ma in questa ottica, io capisco, siccome abbiamo una disoccupazione di lunga durata anche fra i giovani, che ormai supera i due anni, io capisco che si dice chi è disoccupato da più di sei mesi, non faccio fatica a capire questa questione, che ci sia un problema di rapporto con i caratteristica, ma questa questione di chi è sotto il diploma di scuola media superiore non la capisco, non solo perché si tratterà di occupazione bassa quella che abbiamo fatto, ma soprattutto perché sarà occupazione che prima o poi ci sarà una ripresa, rischia. Perché nel futuro non ci potrà essere la stessa produzione, le stesse imprese e quello che ci sarà, tu vieni dall'iniziativa europea, cosa dice il Cedefop? Dice che nel futuro l'occupazione sarà nei livelli medio-alti, noi non abbiamo un abbassamento in tutte le qualifiche medio-basse, sono tutte persone che rischiano di perdere una doppia beffa nel prossimo futuro. E allora non ci se la può cavare così, non se la può cavare l'Europa con questa miseria che ha messo sul piatto chiamando l'intervento per i giovani, anche se lo concentra in due anni, sti 6 miliardi spalmati sull'Europa sono veramente una cosa banale. Allora, sul prossimo bilancio europeo che si discute purtroppo non si decide, perché saremo tutti europei, ma Cameron mette il diritto di veto e i tedeschi finché non si voti in Germania non si può decidere niente, anche qui c'è qualcosa di malato che va cambiato in questo meccanismo. Ma allora, perlomeno il prossimo bilancio europeo lo vogliamo dal punto di vista della qualità trattare in modo diverso. Non sarà che questi soldi li spalmiamo come se niente fosse sui soliti 7 anni. Siccome tutti parlano di effetto shock, vogliamo restringere la questione, vogliamo qualificare la questione nel prossimo biennio per dare una svolta che ha queste caratteristiche, che è la terza questione di intervento. E poi c'è un problema che non bisogna nascondersi che riguarda anche il sindacato. Naturalmente è molto più difficile fare iniziative che hanno queste caratteristiche in una fase di crisi che in una fase di crescita è tutto più facile. In una fase di crisi in cui la torta si restringe e si restringe per tutti, parlare di ridistribuzione anche dentro il mondo del lavoro è assolutamente più difficile. Anche qui c'è un nodo da affrontare. Tu hai ragione quando dici che ci vorrà del tempo per superare questa mole, se riusciamo a cambiare alcune condizioni, questa mole di lavoro precario che si è venuta da fermare. Adesso siamo arrivati al punto che noi abbiamo il 15% di lavoro autonomo più del resto d'Europa. Ci sarà falso lavoro dipendente nascosto dentro questo meccanismo, ci vorrà del tempo per smaltire questo percorso. Però qualche concetto lo dovrai affermare. Allora, che cosa vogliamo dire quando parliamo di inclusività dentro i contratti nazionali di lavoro? Perché prima o poi avremo una discussione anche con i nostri rappresentati nel futuro se vogliamo fare questa questione. Dobbiamo arrivare a dire un concetto che è questo, a parità di lavoro stesso salario, indipendentemente dal tipo di forma di lavoro con cui tu ti sei assunto. Forse se cominciamo tutti a cercare di fare un ragionamento a più sfaccettature perché da un unico punto di vista non ci si arriva, non la si prende la questione, faremo una cosa che non risolve i problemi ma che dà una roba di cui adesso c'è tanto bisogno. perché le inquietudini che la crisi provoca, l'incertezza sul futuro genera paura e genera reazioni che la paura, diciamo sconsiderate, che la paura propone anche nelle reazioni più delle persone. C'è bisogno di fiducia e di speranza. Un sindacato non può non farlo, non è il suo dovere di istituto dire ce la possiamo fare, ma oltre a dire che ce la possiamo fare, forse dobbiamo fare qualche cosa di più per far capire che si può cominciare a svoltare. Grazie davvero.